Ma in primis chiediamo scusa ai tifosi, a tutta la gente che è venuta oggi all'estadio, perché non abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, quindi adesso tocca seguire, perché il campionato è ancora lungo, ma questa squadra, come l'ho detto l'ultima volta che ero qua, dobbiamo lavorare, perché noi se non ci mettiamo gli impegni, se non lavoriamo, succede questo. Oggi non abbiamo fatto la partita da protagonista, siamo una squadra giovane, però non ci possiamo permettere di fare una partita come questa di oggi. Dobbiamo continuare a lavorare, perché quella è la strada per fare punti, io sono convinto che il lavoro ti porta a fare delle grandi cose. Il chiede ha dimostrato che quando fa la prestazione da ragazzi umili, da tutta la gente che vuole lottare su ogni palone e quando ci diamo una mano possiamo fare bene. Poi quando facciamo le prestazioni come abbiamo fatto oggi e non facciamo il risultato, ripeto, vi chiedo scusa ai tifosi in primis, perché in casa noi dobbiamo sempre fare i risultati. Abbiamo fatto una partita contro una squadra che è terza in classifica, che probabilmente meritavamo magari invece di perderla di vincerla e non l'abbiamo fatto. Quindi potete capire che a livello morale poi per un allenatore avere due giorni o tre giorni non è facile riportare l'attenzione per questa partita. Non ci dimentichiamo che chiedevi, penso che sia la squadra, se non sbaglio, che ha fatto ultimamente più punti di tutti, quindi una squadra in salute, ma noi lo sapevamo. E ho chiesto una partita sporca, perché visto la partita di mercoledì abbiamo avuto, penso, 6-7, non so se avete visto la partita o io e l'AIDS in qualche modo. Beh, io quando intendo sporca, scusate, non è che sono presentato, però ho un'età, un'esperienza ormai che magari mi posso permettere. Sporca, con carità. No, le ultime 6 partite non abbiamo già un gran calcio, diciamoci la verità, io lo dico con grande tranquillità. Oggi la partita sporca che intendo io è questa, grande applicazione, perché poi, diciamoci la verità, anche il Chiedi ha sfruttato i giocatori che ha, giocatori alti davanti, mettevano questi palloni molto divetti, diciamo così, e noi lì siamo stati bravi. Capite bene che noi siamo una squadra più giusta del girone, quindi a livello morale è stato un lavoro abbastanza pesante, diciamo così, tra virgolette. Però questi sono ragazzi eccezionali, al di là dei risultati che stiamo facendo, che vanno oltre le nostre più rose aspettative, perché abbiamo giocato con 6 under, come avete visto, giochiamo con un 2.500 fisso tutte le domeniche, quindi un 2.400. Però penso che siano giocatori futuribili, che possono far comodo anche a qualche squadra o di alto valore di questa categoria o di categoria superiore, stiamo lavorando per questo.